Qual è il valore aggiunto che il satellite può dare al 5G? Il satellite può espandere i servizi del 5G, espandendoli soprattutto ai mobili, cioè quindi aeromobili, droni, navi, macchine, automobili, perché utilizza frequenze che si adattano meglio per questo tipo di servizi. Quindi in questo è uno degli elementi. Poi può agire come backup, una backup sicura, diciamo, d'alta affidabilità del sistema terrestre, della rete terrestre, e poi può dare anche altri servizi aggiunti come le chiavi quantistiche, la distribuzione di chiavi quantistiche, oltre a coprire bene anche le aree remote. Questi sono un po' gli assi principali dove il satellite può dare un plus al sistema 5G, alle reti terrestri. Un suo parere alla manifestazione di oggi? Beh, io devo dire che ritengo questo tipo di manifestazioni molto importanti. Cioè è importante che nel Paese ci sia una riflessione su queste tecnologie, e sul loro utilizzo in un contesto geopolitico, chiamando tutti gli operatori, le industrie, le accademie, a riflettere insieme su questo tipo di tecnologie. Cioè è molto importante. Quindi complimenti per aver organizzato questa conferenza. Grazie a tutti.